Benvenuti su notiziononclick.com, oggi domenica 25 dicembre, quindi buon Natale per tutti voi. Iniziamo la piccola rassegna flash con una notizia dell'estero. In Albania i giovani dico costruite il futuro nel vostro paese. Manovra in notturna, dal 27 la maratona in senato, esercizio provvisorio più lontano, povertà abitativa più vicina. Silvio Berlusconi impegno perché nessuno rimanga indietro. Italia campione del mondo in cucina, per l'estero ancora per Obama, dal Maverica al libro di Michelle i consigli del fine anno dell'ex presidente degli Stati Uniti. Questo e molto altro potete trovare su notiziononclick.com. Vi ringrazio per essere stati qui con me fino adesso e vi do appuntamento alla prossima mini rassegna flash. Buon Natale ancora, buon Natale.